683 sono i nuovi casi di covid oggi in Abruzzo, poco oltre il 14% dei test, 4769 quelli processati nelle ultime 24 ore. D'età compresa tra un mese e 98 anni, 195 dei nuovi positivi sono in provincia dell'Aquila, 170 in provincia di Chieti, 78 nel Pescarese e 222 nel Teramano, 13 invece provengono da fuori regione, mentre per 5 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. 486 dei nuovi casi sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi e sale a 661, di età compresa tra 56 e 99 anni, 13 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara. Attualmente in Abruzzo vi sono 11.908 positivi accertati, più 492 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 567 pazienti, più 20 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva, più 5 rispetto a ieri, per un totale di 57. Mentre gli altri 11.284, più 467 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale della sanità.